Ehm ma la luce, vabbè poi togli l'audio per favore, la luce così non va bene, questa è la posizione che devi riprendere, però la luce non va bene perché viene a chiazza, quindi fatti un po' più là, o di qua. Bravo, guarda come sono buone le mie mani, come sono buone queste mani di brutte, che bell'orecchio morbido. Tu devi riprendere anche il nasone, il nasone rosa, è vero? Non ti fa lo zoom, mentre in uso la funzione stabilizzatore. Ah perché si deve togliere questa funzione che non si è messa da sola, dopo la togliamo. Questa è la sua altezza. Mantenila ferma così si vede il nasone. Fermi la parola, vada, che mamma. Il nasone rosa con i pallini neri. Mannaggia che l'orecchio. Sto ancora in piedi. Vedi se cammina, fatti seguire. Sto seguendo qui. Vieni. Io non vedo cosa ho dietro. Non c'è niente. Ok. Sto facendo faticare. No, ma che naso. Claudia, accharettala un pochino. Un altro pochino. Chi-chan 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 Una fuda Chi-chan Chi-chan Scudinzi Scudinzi Chi-chan Sono megcicolini Vieni Vai Fatica Vieni Due tosti Poi ti lasciamo in fascia Vieni Vieni no